Durante l'ultima riunione di Consiglio Provinciale è stata approvata tra gli 11 punti all'ordine del giorno una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sottoscritte acquisite le quote di partecipazione al capitale sociale per l'attivazione dello strumento di sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura, il cosiddetto programma Blue Gall. Infine ha approvato l'accorpamento al demanio stradale provinciale di alcuni tratti di strade provinciali precedentemente di competenza dei comuni di Roccaforzata e Massafra. Interventi in tutto l'arco provinciale sia per la spesa in conto capitale, quindi scuole, strade e altri interventi su immobili importanti con il provveditorato agli studi piuttosto che la spesa corrente per tutte le manutenzioni che stiamo rinnovando a cominciare proprio dall'ambiente scolastico. Subito dopo la riunione del Consiglio Provinciale il terzo appuntamento con il tavolo tecnico per la strada regionale 8, la cosiddetta Talsano-Avetrana, a partecipare oltre al presidente della provincia Melucci tutti i comuni interessati dall'attraversamento dell'arteria stradale, quindi Taranto, Lizzano, Pulsano, Avetrana, Torricella, Manduria, Faggiano e Marugio, tra sindaci e tecnici degli uffici preposti. Lo stato degli spropi della strada regionale 8 che come sapete ha una procedura che sta entrando nel vivo, siamo intenzionati entro la fine dell'anno ad appaltare i lavori, a completare l'iter che si attendeva da qualche decennio. Al vertice presente anche Leonardo Giangrande, vicepresidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto. Il progetto della regionale 8 prevede la suddivisione dell'opera assolutamente necessaria per la vocazione turistica della litoranea salentina della nostra provincia, in quattro lotti di cui due già finanziati. Tutti hanno sollecitato la regione a inserire nella programmazione finanziaria dei prossimi anni la copertura necessaria per il completamento dell'opera.